signori buongiorno ed ecco la nostra fantastica ari stagliacruz il roast beef già pronto mentre vi faccio vedere il nostro fantastico ospedino vi ripeto che è tutta carne bianca quindi arrostito va benissimo passiamo agli straccetti gruncola e grana il nostro polpettone prosciutto colta e provola gli hamburger i boccolcini di vitello ed eccola qua sempre fresca sempre fresca questa costoletta ve la faccio solo vedere perché se cominciamo con gli aggettivi non finisco mai vi posso solo dire che è buonissima ed eccoci al maialino ed al prosciutto di maia eccole qua salsicce e non pasticce appena fatte freschissime veniamo con la nostra cotoletta appena impanata 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 appena impanata